Il Paradiso delle Signore 6. Andiamo a vedere la seconda parte delle anticipazioni delle puntate in onda dall'11 al 15 ottobre 2021. Tina tornerà finalmente dalla Svizzera, tuttavia continuerà a non rivelare a nessuno la verità, ovvero la ragione per cui è andata a Zurigo. Vittorio le proporrà di prendere parte a un film, ma la ragazza avrà una reazione inaspettata. Non vuole assolutamente partecipare a questo film. In seguito Conti la induce a ripensarci, comunque è disposto a cambiare la sceneggiatura insieme a Tina. Inoltre, il proprietario del Paradiso delle Signore avrà delle discussioni con l'ex suocero, in quanto i due hanno delle idee diverse riguardo alla nuova rivista. Inoltre, il Paradiso Market non sarà l'unico motivo di discussione tra Vittorio e Umberto. Flora si trova in difficoltà, dato che a breve deve essere pronta la nuova collezione per Natale. Non ha molte idee e quindi chiederà l'aiuto di Agnese. La figlia di Ravasi, diversamente da Gabriella, è una donna decisa e avrà da discutere con Vittorio. Umberto, stranamente, prenderà le difese della Gentile. Ovviamente questa cosa non sarà affatto apprezzata da Adelaide. Vittorio, dopo essersi separato da Marta, si è buttato nel lavoro e non ha affrontato il dolore derivante dalla separazione. In questi giorni, però, desiderà di parlarne con Tina. Ha bisogno di sfogarsi e considera l'amato una spalla su cui appoggiarsi. Tina, dal canto suo, desiderà di aprirsi, ma non con Conti, ma con suo fratello Salvatore, al quale svelerà la verità, ovvero perché è andata a Zurigo. Inoltre, dopo che Umberto ha difeso Flora davanti al suo ex genero, la giovane inizierà a guardare il papà di Marta in maniera diversa.